allora di tutte le cose che ho in van e di tutte le cose per chi viaggia in modo itinerante che ritengo sia necessario e opportuno avere questa cosa qua non è da meno questo è un jump starter un jump starter ti può servire veramente nelle situazioni che meno ti immagini jump starter serve per dare una botta alla batteria del motore di avviamento nel senso se per sfortuna ti sei parcheggiato in cima alla valle dei mochini dove vado spesso io o in sardegna nel buco più remoto della sardegna e hai lasciato girato il quadro delle chiavi lasciato accesi i fari o hai fatto qualcosa che ti ha scaricato la batteria del motore tu da lì non ti muovi la cosa più figa ad avere in un van a parte la cassetta di attrezzi che faremo un video più avanti è avere un jump starter in questo caso questo è il top down gs 3000 arriva ad accendere veicoli fino a 7000 di cilindrata quindi con i nostri ducato 2003 o 2005 su ford penso ne abbiamo più che sufficienza e in più questo prodotto qua oltre a essere un un jump starter fa anche da power station cioè ci puoi ricaricare anche un pc o roba del genere facciamo un unboxing insieme e se vi interessa vi lascio come al solito il link in descrizione allora un bosking da qua si vede la qualità perché c'è anche una sua custodia allora lo apriamo abbiamo da questa parte delle istruzioni con specificato tutto come funziona come non funziona il prodotto in italiano abbiamo le due pinze da attaccare alla batteria esatto il caricabatteria usb c assieme ci danno anche un caricabatterie con uscita da 3 ampere non male e questo è il jump starter allora è stifo cioè si vede che è una roba stifo non so se dice stifo in italiano comunque stifo ha un piedistallo ha un piedistallo d'appoggio e poi ha anche un gancetto per appenderlo e voi direte perché ha queste cose qua perché oltre a essere un jump starter dove quando accendi vedi a che potenza è in questo caso è il 75% tenendo premuto il tasto power si accende un faro è per questo che abbiamo questa possibilità qua di tenerlo inclinato oppure questa possibilità qua di tenerlo appeso è una cosa in più che ha messo dentro in un jump starter e non è male non è male anche per il fatto che in caso di emergenza questo lo possiamo mettere dietro al veicolo premiamo due volte il tasto power e fa un lampeggio premiamo altre due volte e fa l'SOS questo è il codice morse dell'SOS il jump starter vogliamo utilizzarlo come power bank possiamo utilizzare questa uscita qua sempre con un coso in gomma diciamo questa uscita qua dc out ha un'uscita 12 volt dc e un'uscita 5 watt 5 watt 3 ampere a usb ci attacchiamo non si può sbagliare perché appunto uno è tratteggiato e uno tondo ci attacchiamo il più e il meno abbiamo collegati i due cosi facciamo power schiacciamo boost è partito il boost e in questo caso abbiamo corrente l'ho fatto andare in cortocircuito non era una cosa geniale da fare infatti gli ho dato una bella saldata a tutti e due i morsetti però abbiamo capito che effettivamente potenza ce n'è andando in corto ha fatto un minuto di beep costante si è spento tutto e dopo un minuto di beep costante si è resettato e adesso siamo pronti per riandare in corto ma vediamo stavolta di evitare tenendo appunto premuto il tasto boost andiamo a dare la potenza massima c'è tutta la potenza che ha dentro questa piccola power station andiamo a darla sui due cavi per accendere il veicolo e arriviamo fino a 3000 watt quindi arriviamo fino a 3 kilowatt è un picco cioè nel senso è una botta che gli da è una botta che serve per accendere il motore quindi gli da una botta così non ci fa 3 kilowatt di picco costanti come una grossa power station ci da la pacca per far partire il motore secondo me nella cassetta degli attrezzi di un camper o di o gente che gira con i veicoli a spasso per il mondo per il trentino per l'italia o per dove volete andare veramente vi può dare una mano perché quella volta che vi dimenticate la luce accesa del gavone o la luce accesa della cabina e siete giù per un bosco e non vi parte il furgone e vi basterebbe un meccanico con il suo jump starter con un centinaio di euro ce l'avete dentro sempre carico e all'evenienza se non vi serve per accendere il motore lo usate per ricaricarvi il pc come di consueto vi lascio sempre il link dei prodotti che mi porto dietro in camper qua in descrizione vabbè ci vediamo al prossimo video che magari facciamo una lista di cose che secondo me in camper devono esserci magari faccio una lista di cose con anche i link così siete più comodi prendo la mia cassetta degli attrezzi e ve la apro qua sul tavolino ci vediamo al prossimo video ciao ciao